Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, stavolta su CSGO Come potete vedere questa è la modalità Corsa alle Arby Sono da solo e sto cercando di fare una partita Tocca una partita non completamente piena Eeeeh Speriamo un po' che punti ci facciamo Dai vogliamo portare questa volta due partite di CSGO In Corsa alle Arby Così vado molto tranquillo Comunque andiamo Uno Due bot Sono bot Questo non lo era Non mi ha ucciso Maledetto Maledetto Maledetta Micaela Deparate Ok CSGO è un bellissimo gioco E' uno dei miei giochi che fa tutto Chi non abbia mai comprato Velo dire la verità Come sempre Chi mi uccide lei Camper Spawn Camper La gente si aggiunge Al gioco Ah dio mio Devo un po' concentrarmi Sto giocando male Sto a merda Ecco Due kill Fate con due bot Mi sento scarso Oh finalmente Bison antichità Così a caso Da lontano Vabbè avrei fama Non potrò farci nulla Anche una bella skin Non fu Pulsazioni Oddio Quanto gioco di merda Vai Vabbè dai Che sfiga Tentare di accoltellare la gente E' una cosa brutta Morto Ha il P90 C'è che culo qui Bot I bot scoglioni Va bene Mirate merda Gli ho fatto Taltà 4 Olè Ma Arriva Lei mi fa 15 danni E muoio Probabilmente Credo che Lui li c'era Questa antela Eh ma Gli ho fatto 81 con un colpo in testa Sono una persona terrestre Va bene Con che Si un bellissimo giochino Vero? Giochino Giocone Devo dirvi Mi piace tanto Oh Finalmente Oh Morto Dai 13 kill Quanto sono Sono il primo Della mia squadra Yeee La costa di armi E' una bella modalità Per passare il tempo Dai Da fianco Con le Con il Negev Il Negev Il Negev Preso uno Arriva l'altra Vediamo dove sono Vediamo quanto fail farò Uno No allora volevo Era un bot per giunta Volevo provare Sinceramente A fare uno scoop Va bene Ok Sono pirla Sono tanto pirla Ehi vaffanculo E' fuori T-bot Minchia Mi hanno rotto il cazzo Col cecchino faccio cagare Sfruttuto ultimamente Ah la glock La mia bellissima glock Cioè no a caso Così l'ha fatto fuori Va bene Ok Comunque terzo Ehm Credo che faccio un'altra partita Così Giusto perché ne ho voglia Ah Mi piace molto Giocarci SGO Ho deciso di registrarlo così Semplicemente perché Non avevo tanto da fare Se non avevo tanto da fare Allora ho detto Perché no Dai Necessiamo una partita Corsa alle armi Su CSGO Dai Via Ora facciamo un'altra E poi Chiudo il video Spero Che questo qua Entri nella categoria Dei video Che sto aumentando Di qualità Cioè nel senso Dovrebbero vedersi meglio Adesso i video Spero Non sono sicuro Perché devo ancora testare Un paio di cosette Di certo Di due spezzoni Ciò che ho caricato Sono a 1080p La musica dovrei metterla meglio Dico la verità E dovrei trovare Una musica Però sinceramente Non ho fatto niente di meglio Non mi piace a sé Capito Quindi Ho messo quelle musicate Quindi comunque Comunque Cercherò di montarli meglio Farò altri spezzoni Quando Risorcerò Anche quelle divertenti Quelle là Non erano divertenti Proprio lo ammetto Erano Succenti Stupidi Gli avversari Erano Molto Stupidi Gli avversari Oddio Oddio Che cazzo è successo Oddio Se te kill A caso Otto Oddio No Novantuno Ma è topo qua Ecco qua Fottuto È girato a destra Girato a destra Girato a destra Non morire Ma vaffanapoli Devo ucciderlo io Come mi ha salvato la vita No Che ciccata Dai corriamo Aspetta qui Peccato dai Oddio Mi ha già raggiunto Quella amicaela Incredibile Arriva l'altro Che kill Uh signori Lotta sera Seratissima Uh uno Olè Vabbè poi Mi fa fuori Perché avevo pochissima vita Anche Zulber Ok Fatto fuori Mi portate questo Ok Qui Era un bot Morto Morto Oddio Che fail Che fail C'è Quanto faccio cagare Non faccio più cagare Mi sento una merda In questo momento Oddio C'è Porca puttana Mi devo dare la lipica C'è Fare prima una kill Col coltello Mi sa Oggi No per dire Eh Guarda Peccato Che si è girata Quella lì Forse l'ho che preso Questo Eh Maledizione Va bene Mi devo dare la lipica Mi do la lipica Eh vaffanculo Eh almeno il bot Dai Mi sono fatto superare Come un pirla Come un pirla Che neanche i pir Oh Effettamente come sono Cioè neanche i pirli Sanno come ho fatto A farmi superare Vabbè O almeno adesso recupero Cioè almeno ci provo Ah vabbè All'arma migliore Questa anche Questa è la vista Lei mi sa Vabbè Eh lo so Fucile a pompa Contro cosa Un piccolo problema Vabbè Ok Ma io posso avere Tipo quella Che ha la pistola Kill di coltello Vai I coglioni Uff vabbè Vabbè Ma porca puttana Culo Andiamo avanti Dai su E vaffanculo Mi fai fuori così E Cazzo Non è così tanto Easy peasy Lemon squeasy E farmi fuori Col coltello Vabbè Lo so usare E vabbè Vinceremo Michela No Un altro Comentisicunti Che tristetti Oh vabbè Per questo video Posso andare Vi ho fatto vedere Un po' Di decisioni Un po' Di mie cagate Faccio cagare Con la vp Abbiamo capito Faccio schifo Potrebbe andare bene Per questo video Spero Io comunque Al prossimo video Questo Quindi come farò capire Farò altri video Di csgo Al prossimo Ciao a tutti ragazzi Ditemi Fatemi delle critiche Cioè Ditemi come Cosa devo Migliorare su questo video Che non so se devo alzare un po' Più l'audio di cs Oppure no Comunque Ciao a tutti E al prossimo video Ciao da leone Ciao a tutti